Nuovo allarme per l'antibiotico resistenza nel mondo, troppi gli antibiotici usati negli allevamenti, così i batteri diventano invincibili, le vie alternative. Escherichia coli, clepsiella pneumonie, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, salmonella. Nuovo allarme dell'OMS, 500.000 i casi di infezioni batteriche resistenti alle cure in 22 paesi, una stima però a ribasso. La penicillina in alcune zone fallisce in metà dei casi, la resistenza alla ciprofloxacina per le infezioni delle vie urinarie arriva al 65%. Gli ospedali sono i luoghi in cui si contraggono più infezioni, 7.000 i decessi in Italia, 25.000 in tutta Europa. In più ci autoprescriviamo troppi antibiotici, ogni giorno ne consumiamo 28 dosi ogni 1.000 abitanti, favorendo così la trasformazione genetica dei batteri che diventano invincibili. L'OMS prevede che nel 2050 i superbatteri provocheranno 10 milioni di decessi l'anno. Ma il problema non sta solo nell'usare noi troppi antibiotici. Una gran parte delle mutazioni è dovuta all'uso negli allevamenti e dunque in ciò che mangiamo. Elena Cestino. La diffusione di batteri che hanno nel codice genetico la capacità di resistere agli antibiotici è legata anche al modo in cui gli antibiotici vengono usati, sia per gli animali che per l'uomo. Un uso considerato eccessivo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. In Europa i paesi del nord sono più virtuosi, ma poi ci sono le maglie nere, Grecia, Italia, Spagna e Cipro ad esempio. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2030 il consumo di antibiotici in zootecnia aumenterà del 67%. Al di là dell'impiego terapeutico ci sono altre pratiche che contribuiscono all'uso intensivo di antibiotici, come la metafilassi. Invece che isolare e curare gli animali malati, si tratta l'intero gruppo di cui fanno parte. O ancora l'utilizzo di dosi basse, circa un centesimo di quelle terapeutiche ma costanti, per favorire l'accrescimento degli animali. Un uso tanto improprio quanto diffuso in molti allevamenti di bovini, pollame, conigli. Dagli allevamenti alle nostre case la strada è più corta di quanto possiamo pensare. Su cinque infezioni da batteri antibiotico resistenti nell'uomo una origina dagli animali. Le altre quattro originano da una cattiva gestione del farmaco nell'uomo. I batteri resistenti si diffondono nell'ambiente non solo con i prodotti alimentari di origine animale, ma anche attraverso concimazione e irrigazione dei campi. Ci sono degli antibiotici di prima scelta per i quali il livello di antibiotico resistenza è già piuttosto elevato. Ad esempio le tetracicline sono degli antibiotici che si usano piuttosto spesso e sono molto diffusi. Ci sono degli antibiotici, ad esempio le cefalosporine di terza e quarta generazione, che invece sono ancora molto efficaci e dovrebbero essere utilizzati soltanto in casi particolari dopo che è fallita, ad esempio, la prima strategia terapeutica. Il rischio è che tra 20 o 30 anni si possa morire per quello che oggi consideriamo un banale ascesso ai denti o per una bronchite con complicanze batteriche. Noi in medicina veterinaria utilizziamo sostanzialmente le stesse molecole antibiotiche che si utilizzano in medicina umana. Questo è un grosso problema. Se possono svilupparsi sempre nuove resistenze, la ricerca di nuovi antibiotici non è sufficiente sul lungo periodo. La ricerca guarda anche a strategie alternative. Grazie a tutti.